Musica Dovrei ringraziare tutte le autorità che sono intervenute e che non hanno portato i loro saluti ma hanno introdotto in modo concreto e approfondito l'argomento di cui discutiamo e oggi esamineremo insieme. Questo è un segno molto forte del taglio che si vuole dare non soltanto a questa giornata di lavoro ma anche che è stato dato a tutti i convegni sullo stool che abbiamo visto in questa sede, nella sede precedente dell'Università degli Studi di Modena. Non sono neppure passati due anni dall'entrata in vigore del nuovo delitto di stalking e diciamo che in questi due anni si è visto come questa legge abbia dato delle concrete opportunità e tutele alle donne e comunque in generale, più in generale alle vittime di stalking. Si è visto anche come in realtà non sia sufficiente normare una fattispecie che prima non era neppure considerata come reato ma è necessario andare avanti ed approfondire la tematica perché in realtà quello che è stato studiato sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo è ancora poco rispetto alla realtà del fenomeno. Io sto leggendo dati che provengono dal Ministero della Giustizia, dal Ministero delle Pari Opportunità e l'Osservatorio Nazionale dello Stalking Allora nel 2010 in Italia al mese di novembre è morta una donna ogni tre giorni a seguito di omicidio Nel 2009 le donne uccise sono state 119 e 113 nel 2008 Quello che è dato che interessa a noi è che nel 25% dei casi di questi omicidi prima dell'evento finale queste vittime avevano subito stalking quindi capite com'è importante capire, comprendere, avere degli strumenti per comprendere per consentire agli operatori coinvolti nelle fattispecie di stalking quando è che la donna è a rischio di subire un'escalation di questo fenomeno che porti a reati più gravi quale appunto l'omicidio, il tentato omicidio e la violenza sessuale direi che a queste tre categorie si è rivolta soprattutto la ricerca ricerca che, e questo va ancora una volta riconosciuto al Modena Group on Stalking e alla professoressa De Fazio ancora prima dell'entrata in vigore della legge del nuovo articolo 612 bis del codice penale ha capito l'importanza di individuare all'interno del fenomeno dello stalking quali fossero gli indici rivellatori e predittivi di un'escalation della violenza che portasse appunto a eventi di violenza gravissima a quali appunto, ribadisco, morte, tentato omicidio e violenza sessuale vorrei continuare nella linea di concretezza che è stata, nell'impronto di concretezza che è stata data a questa giornata e quindi non tolgo la parola ai relatori non tolgo tempo ai relatori ma do subito loro la parola apriamo i lavori con la professoressa Maria Zagora dell'Università degli Studi di Milano e con la professoressa De Fazio che appunto ci illustreranno il progetto di ricerca stalking e rischio di violenza e presenteranno lo strumento di valutazione del rischio che è il risultato finale della ricerca prego grazie le ringrazio per l'ospitalità per l'ospitalità fisica logistica proprio ma devo dire che ringrazio anche per l'ospitalità scientifica perché chi è stato veramente iniziatore ma anche l'anima della ricerca voi avete visto che avete sentito che la ricerca è fatta dall'Università di Modena e dall'Università di Milano ma trainante sicuramente è stata la professoressa De Fazio d'altra parte tutti la conosciamo come colei che davvero ha portato in Italia lo stalking inteso come ricerca e come studio evidentemente quindi sarà lei a illustrare il report finale di questa ricerca e io invece comincerò raccontandovi un paio di storie sono un paio di storie che forse fanno capire il perché di questa ricerca e il perché di un'attenzione particolare che va al di là del mero fastidio magari anche grosso fastidio delle molestie assillanti da dove vengono queste storie? sono un paio perché non credo proprio di avere tempo di raccontarne di più storie vere sono i racconti che mi hanno fatto i tanti partner violenti più delle volte partner uxolicidi che ho incontrato in carcere per esempio Merione beh è chiaro che non è il nome vero ancorché ormai condannato io ho usato per questi soggetti i nomi degli eroi a chei dell'Iliade beh gli uomini che ho incontrato io non avevano granché di eroico e di mitico a dire la verità tutt'al più li accumunava con questi guerrieri a chei un atteggiamento non esattamente di pari opportunità con le donne la vicenda di Criseida insegna comunque Merione ha ucciso con 24 coltellate l'ex convivente che lo aveva lasciato questo è un personaggio un personaggio un'immagine di personaggio che lui stesso ha coltivato scrivendo anche un libro che ha chiamato il cacciatore di anoressiche le notizie di cui riferirò sono tratte oltre che dal colloquio dai suoi scritti appunto per esempio questo libro e dalle numerose perizie a cui è stato sottoposto cinquantenne al momento del colloquio con me famiglia in cui la madre è figura dominante addirittura soverchiante poi scuole regolari fino a un certo punto anche l'attività professionale invece dal militare si fece congedare dice fingendo o forse esagerando sintomi psichiatrici matteggiavo dice forse esagerava fatto sta che ebbe poi più di un ricovero in reparto psichiatrico e lunghe cure cacciatore di anoressiche perché questo soprannome e questo è dovuto alla passione per questo tipo di donne fin da giovane dice le ragazze normali non mi dicevano nulla e nemmeno quelle solo magre in cui le ossa anche se si sentivano non si vedevano quasi per niente delle donne dirà anche volevo una donna magrissima che mi volesse bene a costo di costringerla non tollerlo di essere lasciato se una donna non mi va devo essere io a lasciarla altrimenti divento cattivo in pratica vuole una donna pelle e ossa ma soprattutto disposta a qualsiasi sacrificio per lui si sposa il matrimonio non dura molto anche perché la moglie anziché dimagrire come aveva promesso ingrassava inesorabilmente già prima della separazione d'altro canto era magra ma non come volevo io la chiama la cicciona perché supera i limiti pattuiti di 40 kg era alta più di un metro e sessanta finalmente conosce Barbara la chiameremo così 44 kg un metro e 72 il rapporto è definito simbiotico lui stesso dice scorrevamo 24 ore su 24 assieme avevo soffocato ogni sua iniziativa le avevo fatto interrompere gli studi i rapporti coi parenti con gli amici il rapporto assume via via una palese coloritura sadomasochistica lui non vuole che lei mangi lei qualche volta osa sfidarlo per esempio c'è un episodio al ristorante in cui ordina un piatto di gnocchi e questo suscita un litigio clamoroso addirittura tornati a casa la picchia la minaccia la costringe a dormire nuda sul pavimento in quell'occasione lei si ribella prende un martello e poi tenta anche di tagliargli la gola ma dopo sarà lei a chiamare i carabinieri e l'ambulanza a questo punto viene incarcerata e qualche cosa si incrina lei capisce che continuando così il suo destino sarebbe segnato lo lascia e qui comincia il copione fino adesso siamo in una storia un po' inusuale ma adesso il copione è più o meno il solito stalking minacce telefonate continue la vittima è arrivata a registrare 28 cassette delle telefonate moleste più o meno le frasi sono sono disperato non riesco a vivere senza di te e anche prima o poi mi ammazzerò è come se l'avessi fatto tu ma poi in un crescento di aggressività rompere definitivamente sai cosa significa significa ritrovarmi un giorno alle tue spalle quando meno te lo aspetti perché io sono impazzito dalla rabbia non dal dolore in fondo è autocritico mi spiace ammazzarti perché poi non ti potrai far soffrire più per lui insomma non c'è autonomia non c'è vita nella separazione questi concetti sono reiterati se dovessi perderla per me sarebbe la fine dice anche allo psichiatra che che l'aveva in cura lo stalking è anche nei confronti dei genitori continua e telefonate anche anche verso questi contro questi da tempo l'attenzione oscilla fra quella auto ed etero lesiva volevo buttarmi nel lago volevo uccidermi io e con quest'idea auto lesiva lui si prepara quel famoso ultimo incontro quei famosi ultimi incontri che le donne che hanno intenzione di separare i mariti devono sfuggire come la peste arriva armato perché si vuole uccidere e come ahimè non tanto raramente accade il viraggio è dall'auto all'etero aggressività e come avevamo anticipato ucciderà la donna con 24 coltellate ci saranno perizie ma queste ve le risparmio e piuttosto se ho ancora qualche minuto una storia un po' più normale vogliamo dire così diciamo una storia in cui non c'è un personaggio c'è una persona purtroppo come troppe Arcesilao è stato condannato per omicidio in danno della moglie nella sentenza si legge che cagionò il decesso della donna procurando le lesioni a carico del distretto cranioencefalico frattura di volta e base cranica ematoma suddurale tutte lesioni compatibili con l'urto del capo contro una superficie o corpo contundente non contento la attingeva con arma da punta e taglio al collo procurando le lesioni di cui una trapassante e una penetrante e quest'ultima recidente l'arteria carotide nonché la attingeva anche su altre parti del corpo procurando le lesioni superficiali al torace all'addome infine dopo che la moglie si trovava distesa a terra e non ancora deceduta la cospargeva di alcol e le appiccava a fuoco qual è la storia di quest'uomo c'è anche qui un primo matrimonio della prima moglie dirà al colloquio con me che era schizofrenica espressione non usata in senso proprio per dire che era matta che era sporcacciona che non sapeva lavare che non sapeva cucinare che non sapeva crescere la figlia la cognata era autoritaria possessiva spendacciona svalutante e per di poco l'insana mania di voler lavorare fuori casa il fratello invece è un santo comunque queste donne niente a vedere che con la perfezione della propria madre definita straordinaria il marito cioè il padre del nostro era un birichino direi che era un eufemismo perché poi si spiega che beveva ed era solito picchiare mogli e figli mentre gli chiedo della sua famiglia di origine dei suoi matrimoni a un certo punto gli chiedo anche secondo lui come dovrebbe essere un buon marito e padre e mi risponde come mi sono comportato io con la prima e la seconda moglie si accorge forse della mia espressione un po' attonita e rettifica parzialmente circa l'uxoricidio racconta che attraversava quindi con la seconda moglie evidentemente attraversava un periodo di difficoltà economiche era venuto quindi a Milano da un'altra località aveva cercato lavoro ma non lo trovava la donna invece aveva trovato lavoro come in treno in un locale notturno ma oltre a ciò dice trascorreva molto tempo fuori casa e a lui arrivavano delle voci in pratica dice la donna si sarebbe dedicata alla prostituzione mentre lui non voleva in realtà se si guarda la sentenza si apprende che le amiche della donna raccontano una storia ben diversa lui la induceva a prostituirsi mentre lei non avrebbe voluto comunque ci furono litigi anche una denuncia da parte della moglie poi ritirata grazie alla mediazione del comandante della stazione dei carabinieri che avrebbe detto la vittima si rende conto del male che gli sta facendo c'è una bambina di mezzo può darsi che non sia vero io credo che se fosse successo a Modena non sarebbe andata così comunque alla fine la defunta lui la chiama la defunta sempre la moglie veramente l'ha resa lui tale se ne sarebbe andata di casa e ma lui non demordeva e qui anche qui una serie infinita ininterrotta di episodi di stalking e infine di nuovo il famoso colloquio ultimo ultimo per forza in cui l'ennesima lite in cui lui la coltella la spinge a terra avrebbe voluto poi suicidarsi dandosi fuoco non avendo avuto il coraggio di accoltellarsi a propria volta e a questo scopo dice andò a acquistare la benzina con cui poi incendiò la casa questo è quello che dice lui il pubblico ministero diede però un'interpretazione un po' più maliziosa e ritenne che si volesse in questo modo occultare le tracce del delitto è finita anche questa storia forse non è ancora finita in carcere ha già una fidanzata costè una donna stupenda e da lei vorrebbe anche un figlio perché il suo sogno è quello di avere una famiglia un'altra due storie una un po' più eccezionale una un po' più normale normale per i criminologi quindi normale nella patologia della famiglia ma che forse spiegano il perché abbiamo provato a vederci un po' più chiaro e a cercare di capire che cosa distingue uno stalking fonte di sofferenza di disagio senza altro ma da qualche cosa che è prodromico di guai anche peggiori grazie proseguo Isabella Merzagora mi ha anticipato e così ha limitato il mio compito nel descrivervi le origini e le ragioni che hanno motivato il nostro progetto di ricerca che io qui vi riporto anche a suo nome e a nome di Lauren Sheridan che ha elaborato i nostri dati effettivamente chi mi ha preceduto nei saluti e poi Isabella hanno sottolineato come in Italia l'interesse per il fenomeno dello stalking sia abbastanza recente come sia recente anche l'introduzione di una norma sullo stalking e l'interesse per i casi più seri di stalking quelli che sono terminati con violenza grave o omicidio non è un caso poi che nel nostro paese i media quando si sono occupati di stalking anziché sottolineare in prevalenza come è avvenuto in altri paesi i casi di stalking a danno di personaggi in vista di personaggi pubblici abbiano piuttosto sottolineato e messo in luce storie di stalking conclusisi tragicamente ai danni di persone comuni e soprattutto di ex partner un'altra ragione in rapporto alla quale ci è sembrato importante continuare ad indagare il tema dello stalking è quello della sua diffusione in generale nella popolazione di questi dati io sottolineo quello relativo all'indagine istat che è del 2007 che riporta nell'ambito del campione analizzato un 18,8% di vittime di stalking da parte di un ex partner venendo poi al tema che riguarda questo progetto di ricerca ossia stalking e rischio di violenza certamente per noi ricercatori si tratta di un campo di indagine particolarmente interessante tratteremo oggi dei fattori di rischio di vittimizzazione in rapporto a quella che è stata la nostra la nostra indagine la letteratura esistente ha parecchi contributi sul tema riporta però percentuali abbastanza differenti evidenti le une dalle altre nei vari contributi che spesso fanno riferimento solo a violenza fisica intesa in senso abbastanza generico non sono tanti i contributi che hanno preso in considerazione il rapporto fra stalking e violenza grave tra questi il primo in assoluto credo sia stato quello dei colleghi David James e Frank Farnham in Inghilterra certo una delle ulteriori ragioni che hanno motivato il nostro interesse per questo tema è stata anche la considerazione che violenza e paura della vittima sono elementi strettamente connessi intrinseci al fenomeno dello stalking quindi ci siamo così dedicati ad analizzare questo tema cercando anche di adivenire alla creazione di uno strumento pratico che possa dare qualche indicazione a chi si trova a dover fronteggiare situazioni di stalking ancora sempre per fare qualche riferimento ai dati mi limito all'ultimo punto la stessa indagine istat che vi ho citato prima riporta un 48,8% di violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner sono dati che poi vanno visti nel contesto del campione ovviamente di riferimento che riguardava uno studio sulle violenze in famiglia a questo punto passo direttamente dopo avervi fornito solo qualche elemento indicativo relativo alle motivazioni che ci hanno spinto a analizzare questo tema passo alla ricerca la nostra ricerca come si è svolta che ipotesi ha voluto verificare e quali obiettivi aveva l'ipotesi abbiamo cercato di verificare le correlazioni esistenti tra stalking e violenza grave facendo riferimento intendendo per violenza grave poi vedremo che la metodologia della ricerca ci ha in una qualche misura anche imposto questa scelta abbiamo fatto riferimento a casi di omicidio tentato omicidio e violenza sessuale e abbiamo cercato di individuare attraverso un percorso metodologico che è stato così portato avanti da da Lauren Sheridan i fattori di rischio presenti in casi di stalking ai quali avevano fatto seguito appunto episodi di violenza grave che cosa abbiamo cercato di ottenere a seguito di questa nell'ambito di questo progetto abbiamo elaborato una checklist un elenco di fattori di rischio connessi a situazioni di stalking che cos'è questa checklist che cosa si propone di essere si propone di essere uno strumento molto pratico molto concreto per identificare quei casi di stalking che necessitano di maggiore attenzione o che dovrebbero necessitare di una particolare attenzione in un'ottica di valutazione del rischio facilitando la raccolta di informazioni vedremo lo strumento che caratteristiche ha presenta semplicemente delle domande che sono state strutturate sulla base dell'esito dell'analisi dei dati che abbiamo raccolto e cerca di effettuare una valutazione che è così questa presenti parecchi limiti che poi vi metterò in luce del rischio di violenza per la vittima come abbiamo elaborato le fasi successive del progetto quali sono i casi sui quali si siamo basati a quali fonti ci siamo rivolti intanto nella nostra metodologia abbiamo fatto riferimento a quelli che sono stati i lavori precedenti condotti da alcuni colleghi David James e Frank Farnham hanno elaborato un modello di predizione di comportamenti di violenza grave confrontando casi di violenza grave e violenza meno grave abbiamo cercato di individuare e studiare casi di omicidio tentato omicidio e violenza sessuale in un arco temporale di almeno dieci anni e nell'ambito di questi casi abbiamo selezionato quelli nei quali vi era una chiara evidenza di stalking come abbiamo così valutato la presenza di stalking perché molti casi anzi la maggioranza sono casi che hanno avuto luogo prima delle entrate in vigore della legge del 2009 abbiamo utilizzato una definizione scientifica del gruppo australiano che è stato il primo ad averla elaborata e che dal punto di vista scientifico fa riferimento allo stalking quando si verificano almeno dieci comportamenti nell'arco di quattro settimane abbiamo raccolto poi i dati relativi alla nostra casistica nell'ambito di una scheda di una griglia di analisi che abbiamo progettato ad hoc e poi Loren Sheridan ha effettuato un'elaborazione statistica dove abbiamo a quali casi abbiamo fatto riferimento quali sono le fonti dei nostri dati abbiamo fatto riferimento alle relazioni autoptiche e alle perizie psichiatriche presenti nell'archivio informatico e cartaceo dell'istituto di medicina legale di Modena e Reggio Emilia e nell'ambito di questo archivio abbiamo selezionato i nostri casi consultando 800 appunto relazioni e operizie e abbiamo consultato fascicoli degli uffici giudiziari dell'Emilia Romagna i casi erano 7000 poi vedrete si sono ridotti ovviamente perché siamo partiti da questi individuando attraverso il capo di imputazione dei casi presenti negli archivi informatici quando appunto abbiamo avuto accesso a questa opportunità successivamente c'è stata una selezione successiva dei casi attraverso la raccolta delle sentenze e poi un'analisi dei fascicoli processuali questo per quanto riguarda la prima parte dei dati questi casi di violenza grave sono poi stati confrontati la metodologia statistica lo richiedeva con altri casi di stalking invece che sono stati desunti dalle denunce presentate presso una sezione di polizia giudiziaria della Lombardia quindi i casi di stalking che non avevano avuto esiti di violenza sono stati confrontati con quelli modenesi e dell'Emilia Romagna attraverso questo tipo di raccolta di dati che è stata effettuata dall'università di Milano su quanti casi ci siamo basati il lavoro grosso è stato quello di selezionare i casi che presentavano le caratteristiche idonee per essere sottoposti all'analisi statistica sono stati 59 casi di eventi violenti seguiti allo stalking omicidio tentato omicidio e violenza sessuale perpetrati tra l'81 e il 2009 l'obiettivo era quello di valutare quali erano le variabili che meglio possono predire le violenze gravi poste in essere dallo stalker e il risultato che adesso io vi presenterò è quello della individuazione di dieci variabili in grado in grado di predire in modo statisticamente significativo la condotta aggressiva dello stalker ecco i limiti del nostro lavoro ve li presenterò in conclusione lo strumento della checklist che cosa che cosa abbiamo abbiamo fatto queste sono dieci domande che costituiscono quelle variabili che sono emerse come variabili significative nel predire le condotte violente degli stalker e che rappresentano che cosa appunto messe insieme uno strumento che può essere utile a guidare il processo decisionale e a supportare la raccolta di elementi utili per tutti coloro che sono chiamati a lavorare su questi su questi casi ci sono quindi alcune variabili che sono associate in maniera significativa alla violenza grave posta in essere dallo stalker che sono emerse da questa casistica che noi abbiamo esaminato e che è stata confrontata partendo dai casi di violenza grave poi con la casistica della Lombardia le domande le dieci domande quali sono lo stalker è di nazionalità straniera questa è una delle variabili che è stata segnalata anche da diversi studi stranieri che riportano percentuali elevate di stalker di nazionalità straniera non ci sono ancora studi che hanno indagato la questione nel dettaglio certamente i riferimenti che per ora troviamo nella letteratura e che ci suggeriscono di riflettere ulteriormente su questo tema sono quelli che riguardano un riferimento a un discorso di tipo culturale oppure a quelle che sono le caratteristiche di isolamento e di disagio sociale che talvolta si trovano nell'ambito di questi soggetti la seconda variabile significativa che è emersa dalla nostra analisi quindi la seconda domanda che di fronte a un caso di stalking un operatore potrebbe porsi e sulla quale riflettere è lo stalker è un soggetto disoccupato o che presenta una situazione lavorativa precaria questo tipo di variabile questo tipo di domanda per ricercatori che si occupano di stalking è abbastanza interessante un po' perché non ritorna in tutti gli studi e un po' perché contrasta con quello che spesso è emerso nell'ambito di campioni di stalker che rivelano sovente uno status sociale più elevato rispetto ad altri autori di reato nel caso di stalker a rischio di violenza grave per quanto riguarda l'analisi che noi abbiamo effettuata sembra rappresentare una variabile significativa la mancanza di occupazione o uno stato di disoccupazione cos'è che poi è interessante sottolineare intanto non è detta che una condizione di disoccupazione o di disagio sotto il profilo lavorativo non fosse preceduta da una situazione differente quindi possono essere intervenuti dei cambiamenti anzi talvolta questo tipo di cambiamenti vengono diciamo così per questo tipo di cambiamenti lo stalker colpevolizza la vittima le attribuisce delle responsabilità in rapporto a quello che è un eventuale intervenuto declino di tipo economico e sociale e quindi motiva le molestie proprio in questo modo un'altra variabile che spesso è presente nei casi di violenza grave che fanno seguito allo stalking e che è risultata significativa anche nella nostra analisi quindi la terza domanda lo stalker ha danneggiato la proprietà della vittima ecco tra le molestie che gli stalker portano avanti sono vi sono sovente quelle che riguardano danni che possono essere apportati all'autovettura alla casa della vittima a oggetti o cose di proprietà della vittima questi possono essere così motivati da quelle che sono le ragioni che lo stalker talvolta aduce cioè il desiderio di danneggiare spesso un oggetto o qualcosa a cui la vittima è affezionata minacce talvolta semplicemente dirette alla distruzione indicanti la distruzione di appunto di qualcosa o di una proprietà a cui la vittima tiene in genere in molti casi il verificarsi di danni materiali o è contestuale o precede anche le aggressioni fisiche questo è uno degli aspetti che vengono appunto presi in considerazione quando si tratta di valutare il rischio di violenza grave e ancora quali altri aspetti sono sono emersi lo stalker molesta la vittima regolarmente cioè è frequente l'attività di molestie è molto diciamo così è molto ravvicinata la maggior parte degli stalker che mettono in atto violenze gravi hanno molestato in modo molto intenso la loro vittima anche 20 volte al giorno con comportamenti che sono così quelli dei tentativi di comunicazione spesso pedinamenti minacce o appostamenti vicino alla casa della vittima o al posto di lavoro questi sono i comportamenti comunque tipici dello stalking l'aspetto poi che credo vada sottolineato a proposito di questo item di questa domanda è il fatto che gli stalker poi possono aggredire la propria vittima anche quando le molestie sembrano essersi interrotte quindi può esserci un'interruzione delle molestie che poi non significa che non possa dare luogo successivamente poi a un'azione violenta la quinta domanda che ricorre anche in altri studi che ricorre frequentemente insieme a altri studi di valutazione del rischio lo stalker fa uso di sostanze alcoliche o stupefacenti questa è una variabile che risulta significativa per quanto riguarda il rischio di violenza grave quindi il problema dell'abuso di sostanze come problema che risulta così in un numero significativo di casi come problema associato all'aggressione fisica delle vittime ci sono una serie di altri studi su questo tema che segnalano la presenza di questa variabile come variabile significativa ancora lo stalker ha molestato la vittima in luoghi pubblici quindi di fronte ad altre persone oppure sul luogo sul luogo di lavoro gli stalker che si aggirano nelle vicinanze dei luoghi che solitamente una vittima presenta tendono ad essere coloro che più frequentemente hanno probabilità di aggredire le proprie vittime la maggior parte poi degli stalker è solitamente convinto che il suo comportamento rappresenti una risposta appropriata altra cosa che riguarda il primo punto di questo slide spesso sono le vittime quasi sempre sono le vittime in prima persona che sono in grado di rendersi conto che l'ex partner o un altro soggetto le segue le molesta regolarmente un altro tema rilevante che è oggetto di una domanda della checklist che riguarda una variabile poi risultata significativa è quello che concerne la motivazione gli studiosi che si sono occupati nell'ambito di ricerche internazionali dello stalking hanno elaborato delle tipologie classificatorie che fanno riferimento a quelle che sono le motivazioni che più frequentemente sottengono sottendono comportamenti di stalking ecco tra queste alcune delle motivazioni alcune delle tipologie classificatorie fanno riferimento a rabbia o vendetta quindi questa variabile lo stalker è motivato da rabbia o vendetta ecco questa domanda fa riferimento a quella che è una motivazione che risulta significativa rispetto alla predizione del comportamento del futuro comportamento violento e in rapporto allo stalking i motivi più comuni poi di così che sottendono lo stalking che sottende lo stalking sono spesso la rottura o il rifiuto di una relazione spesso lo stalker cerca di ristabilire una relazione che la vittima ha interrotto o non vuole riprendere attraverso comportamenti che rinviano al desiderio di vendicarsi spesso c'è ci sono rancori da parte dello stalker che ritiene che la vittima meriti le sue molestie ecco stalker che diciamo sono motivati da rabbia o da vendetta rispetto ad altre tipologie di motivazioni sono stalker che risultano essere più pericolosi rispetto al rischio di violenza altro punto che poi credo nel nostro paese non solo meriti qualche riflessione in più altra variabile altra domanda lo stalker possiede un'arma questa è un'altra variabile che risulta essere significativamente correlata al rischio di violenza grave quindi gli stalker che hanno accesso ad armi da fuoco da taglio risultano avere maggiori probabilità di uccidere o ferire gravemente le loro vittime e quindi è chiaro che ciò impone quando ci si trova di fronte a situazioni di stalking che vengono segnalate la possibilità di verificare che un soggetto possieda diverso titolo o abbia accesso ad armi da fuoco o da taglio e altro elemento particolarmente significativo è la presenza di minacce specifiche che menzionino le armi spesso risultano presenti in casi di stalking e di stalking grave minacce e minacce specifiche che fanno riferimento a un futuro comportamento di violenza grave che potrebbe essere messo in atto con il ricorso ad armi da fuoco o da taglio penultima domanda lo stalker è noto per essere stato violento nei confronti di altre persone durante la campagna di stalking ecco tra le caratteristiche dello stalking c'è quella di essere un comportamento che fa riferimento a una vittima primaria ma che prevede anche il coinvolgimento di vittime secondarie ossia di tutti quei soggetti che a diverso titolo possano ostacolare l'attività del molestatore quindi uno stalker può aggredire o molestare prima vittime secondarie per ottenere informazioni su quella che è la vittima primaria oggetto del suo interesse per disturbare quest'ultima per rimuovere ostacoli che gli impediscono di avvicinarsi alla vittima primaria o anche semplicemente in un'ottica vendicativa e punitiva nei confronti di coloro che aiutano o proteggono la vittima o che hanno così un rapporto particolare di vicinanza con la vittima ecco tra le variabili significative che riguardano il rischio di violenza grave si segnala questa variabile cioè il fatto che gli stalker abbiano aggredito persone vicine o care alla vittima primaria la vittima principale rappresenta un fattore di rischio in più in sostanza le persone che sono ritenute in grado di proteggere la vittima o di impedire i contatti dello stalker con quest'ultima sono anch'essi particolarmente a rischio di subire violenza l'ultima domanda che peraltro così non è sempre in linea con i risultati di altri studi lo stalking è già stato denunciato alla polizia ecco si intende qua il fatto che la polizia alla polizia sia già stato segnalato o alle forze dell'ordine sia già stato segnalato un caso di stalker di stalking gli stalking che sono già stati segnalati alla polizia nell'ambito di quella che è stata l'elaborazione statistica del nostro campione sembrano essere quelli che hanno più probabilità di attuare delle forme di violenza grave questo che cosa starebbe a significare se dovessimo prendere in considerazione questo strumento ai fini di una sua utilizzazione che forse alcune informazioni che riguardano un caso di stalking a rischio di violenza grave possono essere già a disposizione delle forze dell'ordine che già conoscono il caso talvolta è proprio lo stalker stesso in prima persona che col suo comportamento fornisce direttamente degli elementi che possono essere presi in considerazione a volte tra l'altro va segnalato il fatto che gli stalker più violenti sono quelli che concentrano molte delle loro forze sulle azioni di stalking sono quelli rispetto ai quali gli interventi dell'ordinamento sortiscono risultati meno significativi proprio per le caratteristiche di questi soggetti ecco queste sono le dieci domande una formulazione di dieci domande che rappresentano variabili significative che sono emerse dal nostro studio che è certamente di tipo preliminare quali variabili che dovrebbero dare un'indicazione circa il rischio di future condotte violente nel caso di soggetti che mettono in atto lo stalking quali sono le conclusioni quali sono i risultati finali lo strumento operativo che voi trovate descritto in quel rapporto che c'è all'interno delle cartelline è fondamentalmente questa checklist costituita da dieci domande è uno strumento semplice operativo possiamo dire che in questa fase rappresenta una bozza iniziale che può essere utile per identificare alcuni fattori di rischio può servire per quali per quali motivi per gli operatori che si trovano a dover affrontare e gestire queste situazioni per così riflettere su quelle che possono essere alcune alcune variabili che potrebbero magari così non sempre essere presi in considerazione o a volte rispetto a un numero maggiore di casi a valutare quelli che potrebbero avere una priorità rispetto ad altri in rapporto alla valutazione del rischio quali sono i limiti che poi sono connessi a questo strumento e che dobbiamo tenere in considerazione in questa fase certamente non è uno strumento che si propone di prevedere in modo certo l'omicidio della vittima da parte dello stalker gli stalker stessi non sanno spesso cosa faranno dopo quale saranno le azioni e le molestie che metteranno in atto successivamente fornisce semplicemente delle informazioni su quei fattori che sono più spesso associati a stalker pericolosi talvolta avere qualche punto di riferimento come possono essere quello che può essere costituito da queste domande può incoraggiare ad ottenere anche rispetto a vittime che si rivolgono a un operatore delle informazioni utili a inquadrare meglio il caso dal punto di vista delle prospettive future e dei limiti del nostro lavoro cos'è che va sottolineato per concludere certamente noi presentiamo oggi uno strumento così preliminare il cui funzionamento e la cui efficacia andranno eventualmente testate occorrerà effettuare una raccolta e un'analisi dei risultati procedere ad eventuali adattamenti e correzioni qualora questo strumento si dovesse rivelare utile nella gestione dei casi di stalking mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione un ringraziamento alla professoressa De Fazio e a tutto il gruppo di ricerca da lei diretto per l'elaborazione di uno strumento che è veramente molto utile per tutti gli operatori coinvolti nei casi di stalking penso anche per la mia esperienza personale non soltanto agli operatori di polizia ai medici di pronto soccorso agli operatori dei centri contro la violenza ma anche agli avvocati molto spesso ci capita di ricevere donne o anche uomini che sono vittime di stalking e non siamo in grado di dare loro rassicurazioni oppure di metterle invece in uno stato di giusta consapevolezza della gravità del rischio che corrono e quindi credo che di questo strumento ci fosse veramente bisogno a proposito delle vittime secondarie credo che diversi di noi abbiano subito lo stalking da parte della controparte da parte del marito della moglie del nostro cliente e vorrei ricordare qui il caso dell'avvocato Giovanna Fava che è stata coinvolta nella sparatoria che è venuta al tribunale di Reggio Emilia un paio di anni fa lei difendeva la moglie di uno stalker che aveva già subito ordini di protezione quindi allontanamento dalla casa familiare di vieto di avvicinarsi alla stessa di vieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai figli questo stalker ha accolto l'occasione dell'udienza presidenziale nella quale si doveva decidere sull'affidamento dei figli e si è andato all'udienza armato e la prima persona alla quale ha puntato la pistola non è stata la moglie ma è stata l'avvocato Giovanna Fava che per fortuna si è salvata perché ha avuto la prontezza di abbassare la spalla e quindi è stata semplicemente trapassata nella spalla una rottura del timpano per una scheggia di vetro e quando lei si è buttata a terra e dopo due secondi a terra di fianco a lei c'era la cliente che però era stata uccisa con dei colpi alla faccia poi sono state è stato ucciso anche il cognato il fratello della moglie e per fortuna sono intervenuti gli agenti di polizia e quindi quando anche noi subiamo lo stalking il rischio di violenza grave per i nostri clienti è maggiore grazie